Ben ritrovati, oggi vi segnalo alcune delle scadenze della prossima settimana. Il 14 ottobre è il termine ultimo per presentare le candidature al Global Teacher Prize, in pratica il premio Nobel per l'insegnamento. Sempre il 14 ottobre scade il termine per aderire al progetto Global Volunteer EduChange. L'iniziativa prevede l'accoglienza da parte delle scuole aderenti al progetto di studenti universitari volontari provenienti dall'estero. Ricordo anche una scadenza per le segreterie scolastiche. Fino al 19 ottobre sono aperte le funzioni SIDI per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale studenti riferita all'anno scolastico 2019-2020. Per il momento è tutto, arrivederci alla prossima settimana.